Sono molto emozionata per il mio primo mercatino dove presenterò la mia nuova collezione 2019 questa domenica a Somma Lombardo. Volete vedere un'anteprima? Iscrivetevi al mio canale e attivate la campanella per rimanere aggiornati sui miei tutorial di cucito e le mie storie di creativa. Una tovaglia per stirare imbottita sempre a portata di mano, una tovaglietta romantica, tovagliette in stile retro con cupcake, la cover per telefono con ricamato il caos, il principio di tutto, il caos di internet, dove poi però arriverà la luce con la mia prossima creazione sulla mitologia greca. Le nuove bustine a uncinetto per proteggere il display del telefonino. Le bustine, porta fazzoletti di carta, un accessorio per la borsetta ispirato a una contessa inglese, il cuscino della principessa Elea a forma di corona e la borsa in jeans con medusa ricamata a mano libera a macchina. Shopper e sacchetti in stile anni 50 per tenere in ordine le valigie o la borsa della palestra, un astuccio arrotolato per il kit da cucito, le pochette per la sera, la sacca della bicicletta in jeans e una borsa country per i nostri picnic all'aperto. Ci sono poi i lavori in corso nel mio angolo creatività all'opera che potrete scoprire questa domenica al mercatino artigianale presso Somma Lombardo, zona mercato uvarese, oppure nel mio prossimo video su questo canale. Vi aspetto. Spero che questo video ti sia stato utile. Iscriviti al mio canale se non lo hai già fatto. Seguimi anche su Facebook, Instagram, Twitter, Pinterest e Vero e visita il mio sito eleamoda.it. Ci vediamo la prossima settimana con un nuovo video. Grazie per la visione!